Ancora di scariche a cielo aperto a Caltanissetta, questa volta dopo la segnalazione dei giorni scorsi al quartiere Angeli da parte del Comitato, altri recipienti di Eternit sono stati avvistati e segnalati alla nostra redazione da alcuni nisseni in Viale Luigi Monaco. Siamo andati a constatare la situazione con i nostri occhi e come si può vedere dalle immagini girate dal nostro operatore, nello spiazzale adiacente all'ingresso secondario dell'ospedale Santeria, accanto ai cassonetti della spazzatura, vi è un cumulo di rottami, tra cui recipienti in amianto a pezzi, sacchi di cemento, un lavantino e altro materiale edile. Rifiuti speciali che ormai a quanto sembrerebbe da alcuni mesi giacciono indisturbati nella zona, nonostante lo stesso sia un luogo di passaggio molto frequentato, spesso sottoposto a controlli da parte delle forze dell'ordine e cosa ancora più grave vicino all'azienda ospedaliera provinciale. Stessa situazione circa 200 metri di distanza, ove nel lato sinistro della carreggiata, procedendo in direzione verso San Cataldo, sempre accanto ai cassonetti della spazzatura, si trova un altro cumulo di rifiuti speciali, tra cui un recepiente di Eternit in migliori condizioni rispetto a quello più sotto, ma sempre nocivo per la salute dei cittadini. Sicuramente quello che si evince è l'inciviltà dei cittadini, incuranti del danno che arrecano, i quali, dopo aver ristrutturato casa, procedono indisturbati, probabilmente nelle ore notturne, a disfarsi del materiale edile e non solo, piuttosto che depositarlo nelle aree autorizzate.